Il cane, si sa, è il migliore amico dell'uomo, ma forse l'uomo non sembra il migliore amico del cane, almeno quando qualcuno si prende la briga di dare del cibo avvelenato a dei poveri randaggi innocui. La storia è questa ed accade a Rossano, un gruppetto di volontari da un po' di tempo ha deciso di prendersi cura di alcuni randaggi che stanno in zona. Cagnolini innocui e docili e gli portano acque croccantini. Tutto questo, evidentemente, a qualcuno dà fastidio e tre giorni fa ha pensato di dare dei bocconcini avvelenati ai piccoli pelosi. Due cani sono morti subito, tra cui il briciolino, che era stato richiesto già da una signora di Udile. Un terzo è in fin di vita. Quando vedo queste cose resto veramente sconcertato, non c'è proprio il benché minimo senso di sensibilità, di civiltà, è una cosa sconvolgente. Quando una come me, che fa di tutto per salvarle e poi dall'altra parte c'è chi le ammazza in maniera così vigliacca, così atroce, è allucinante. È giusto perché sono esseri viventi, innocenti, hanno bisogno di noi, ci danno tanto, perché ne abbiamo tutti cagnolini in casa, siamo pieni di cagnolini e ci danno veramente tanto. Però questa non è tollerabile una cosa del genere. Chi ha fatto una cosa, questo deve pagare. Una triste storia di degrado culturale. Dare del cibo avvelenato a poveri animaletti innocui, che fastidio danno. A noi sembra pura crudeltà e cattiveria. I volontari però non demordono e vogliono andare fino in fondo per scoprire chi possa essere arrivato a tanto e chiedono aiuto anche alle istituzioni.